Alla luna, dirige Giuseppe Orizio. Cari dirioli, sento le vostre voci. La mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero. Qui tutto il mondo è rappresentato. Si direbbe che persino la luna si è affrettata stasera osservate lì in alto a guardare a questo spettacolo. Gloria a Vio e pace agli uomini di buona volontà. Tornando a casa troverete i bambini. Date una carezza ai vostri bambini e dite questa è la carezza del Papa. Troverete qualche acme da asciugare. Dite una parola buona. Il Papa è con noi, specialmente nelle ore della tristezza e della maledza. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.